ciao da lucia oggi vi faccio un video un po particolare allora particolare più che altro perché partiremo dalla fine del lavoro perché perché molte di voi mi hanno chiesto come fare le maniche e il collo al poncio grenni quindi io ho qua un poncio grenni già iniziato e vi farò vedere nel dettaglio come si fanno le manichine la mezza manica in questo caso perché è per una bimba e voglio che il poncio rimanga fermo e quindi sto facendo la fascia elastica quindi il bordo elastico e poi farò il collo elastico e le rifiniture quindi noi partiremo dalle rifiniture ma poi a fine video per chi non sapesse fare o avviare il poncio grenni in ogni caso vi farò vedere come si fa ho voluto partire dalla fine quindi dalle rifiniture perché molte di voi non mi hanno chiesto il poncio in particolare ma mi hanno chiesto proprio le rifiniture quindi partendo dalla fine accontento chi mi ha chiesto appunto solo in questo particolare però ovviamente per permettere a tutti di poterlo fare io poi vi farò vedere anche come si avvia il poncio grenni così nel caso qualcuno non lo sapesse fare può tranquillamente farsi il poncio intero quindi non avrà solo delle rifiniture ma l'intero poncio parto comunque dalle rifiniture io una manichina l'ho già fatta adesso vi farò vedere come si fa l'altra come come si calcola anche come insomma come insomma tutto che sono persa tutto quindi vi faccio vedere appunto come fare l'altra manica come fare le rifiniture come fare il collo vado subito con la spiegazione io conto dalla punta quindi prendo la punta per essere sicuri di fare sia davanti che dietro quindi prendere gli stessi spazi sia davanti che dietro parto a contare dalla punta quindi conto il primo spazio dalla punta gli spazi proprio due insieme tre quattro cinque fino io nel mio caso sono arrivata a 11 quando arrivo a 11 cosa faccio metto un marca punti in questo caso ho infilato l'uncinetto per fermare e dentro proprio così davanti e dietro con una maglia bassissima nello spazio che io ho deciso di riempire e cosa faccio da questo spazio in poi allora faccio le mie 3 catenelle che è la mia prima maglia alta ed ora dividendoli ovviamente andrò a prendere ogni maglia quindi vado a lavorare in circolare da qui in poi ogni maglia con una maglia alta quindi su ogni maglia alta faccio una maglia alta aspettate perché con questa inquadratura continua a scivolarmi l'uncinetto quindi la maglia alta in questo modo e in ogni spazio quindi in ogni archetto creato dal punto granny una maglia alta quindi farò tre maglie alte sulle tre maglie alte del granny e una maglia alta su ogni spazio quindi su ogni catenella della del punto granny quindi in questo modo e vado a farmi tutto un giro di maglie alte quando arriviamo all'ultimo spazio in questo modo vedete ci ritroviamo con una maglia alta nello spazio dal quale siamo partiti e una maglia alta nello spazio dal quale arriviamo quindi andiamo a unire sulla terza catenella d'inizio in questo modo e andiamo a chiudere a cerchio proprio così quindi adesso cosa facciamo andiamo avanti con la costa 11 la costa 11 e la costa fatta presa quindi il punto costa preso con maglia alta davanti e dietro 11 significa proprio una davanti e una dietro qui facciamo 3 catenelle che va a sostituire la nostra prima costa davanti carichiamo il filo entriamo da dietro quindi la prossima maglia invece di lavorarla sopra entriamo da dietro in questo modo passiamo davanti e rientriamo tra le due maglie in questo modo prendiamo il filo in questo modo ed andiamo a chiudere la nostra maglia la prossima ovviamente davanti quindi entro da davanti le passo dietro esco raccolgo il filo e vado a fare la maglia alta in questo modo avvicino non ve la faccio vedere più da vicino quindi la prossima è di nuovo da dietro io ho caricato il filo per fare la maglia alta passo dietro entro subito dopo la maglia prendo il filo vedete in questo modo e vado a finire la nostra maglia la vado a chiudere di nuovo davanti quindi passo da davanti prendo la maglia acchiappo il filo e vado a chiudere la maglia vedete si forma proprio questa costina scusatemi sono uscita questa costina una davanti e una dietro una davanti una dietro ed è proprio questa ve la faccio vedere sull'altra manica verrà proprio così ecco presa da vicino si vede bene vedete questa è quella presa da davanti questo in mezzo qua è quella presa da dietro si crea la costa proprio come se fosse il bordino fatto i ferri in questo modo quindi ve lo faccio vedere ancora una volta allora cari carichiamo filo continuo a uscire dalla dall'inquadratura carichiamo il filo passiamo dietro alla maglia che dobbiamo lavorare ed entriamo tra la stessa maglia e quella successiva catturiamo il filo se c'è più comodo tiriamo bene stringiamo bene la maglia così riusciamo a tirarla fuori più agevolmente e finiamo la nostra maglia alta per farla davanti carichiamo da davanti passiamo dietro alla maglia che dobbiamo lavorare carichiamo il filo e andiamo a chiudere la nostra maglia questa è la costa ora io andrò a fare questo per vediamo 1 2 3 4 5 6 giri sei totali quindi calcolando anche il giro qui ne farò cinque ma voi potete farli a piacimento allora questo è quello che avremo al primo giro di costa quindi al secondo giro della manica perché il primo era tutto a maglia alta quindi mi sono unita ho unito appunto l'ultima maglia lavorata con una maglia bassissima come al solito quando si lavora in c in cerchio con le tre catenelle d'inizio ed ora non dovete fare altro che lavorare come si presenta il lavoro quindi 3 catenelle per iniziare carichiamo vedete la prima è una maglia presa dietro quindi entreremo dietro e lavoreremo proprio in questo modo questa è presa davanti e la prenderemo davanti quindi rimarrà anche più facile poi lavorare perché saranno già spostate una davanti e una dietro quindi non ci si può confondere dove avanti la lavorate avanti dov'è dietro vedete lo vedete che è dietro perché rientra invece che sporgere lavorerete dietro in questo modo quindi io l'ho fatto per cinque giri di costa più uno che è il primo di maglia bassa voi potete decidere di farlo quanto volete tenete conto che più la fate alta più questa stringe tende a stringere ovviamente non andrà a chiudere però ovviamente essendo elastica ed essendo che parte qui con una base larga man mano stringe sempre di più quindi fino ad arrivare al diciamo al punto massimo che stringe dove stringe il punto non arriverà comunque a chiudersi perché penso che qua già va bene però se voi la volete un po più stretta provate andare avanti di qualche giro vedere se stringe ulteriormente quindi io ora vado avanti a fare questi giri e le nostre mani che saranno pronte ok arrivata all'altezza desiderata taglio e io le mie due vedete le mie due maniche tento di rimanere nell'inquadratura faccio la stessa medesima cosa per il collo quindi vado a fare prima un giro di maglia alta tutto attorno al collo e poi procederemo con lo stesso sistema ma sul collo avendo una porzione molto ampia da stringere e non volendo fare diminuzioni per paura poi di non riuscire ad infilare la testa lo farò un po alto un po stringerà lo farò un po alto per poterlo poi rigirare perché rigirandolo poi andrà a stringere il sopra andrà a stringere il la parte sotto quindi farò in questo modo e non facciamo altro che quindi quindi caricare quindi facciamo la nostra ecco qua la nostra il nostro cappietto entriamo al centro dell'angolo con una maglia bassissima 3 catenelle 3 catenelle aspettate perché mi sono incagliata nel filo quindi rientro mi sono incagliata nel filo e questo è quello che è successo ok maglia bassissima 3 catenelle ora entriamo qua ce l'abbiamo già vedete la maglia alta quindi questa la terremo come maglia a rilievo davanti entriamo e facciamo a rilievo dietro quindi non dobbiamo neanche stare a fare il primo giro di maglia alta perché ce l'abbiamo già io erroneamente vi ho detto che va fatto ma in realtà non va fatto perché ce l'abbiamo già io sono partita con la maglia alta quindi ecco qui non andiamo a far altro che la stessa cosa ora siccome io non l'ho ancora fatto conterò i giri e vi dirò appunto quanti ne ho fatti io per stringere 100 catenelle quindi 100 maglie ma in ogni caso senza diminuzioni senza niente dobbiamo accontentarci di quello che stringerà il collo perché io di diminuzioni preferirei non farne in quanto ne ho fatte 100 perché ero certa che ci passasse la testa e se vado a fare diminuzioni non sono più sicura che passi la testa il problema tra virgolette dei ponci è proprio questo cioè che la testa deve passare di conseguenza non possiamo decidere di stringere più di tanto perché se no non ci passa la testa quindi la maglia elastica ci permette di stringere ma senza andare a fare diminuzioni ma ovviamente non fa miracoli quindi non è che va a stringere forse abbastanza per renderlo stretto quindi dobbiamo accontentarci di quello che ci viene dato quindi io continuo con la mia costa e al termine del collo vi dico quanti giri ho fatto ecco qua finito vedete ho fatto un bel giro di collo non l'ho fatto che si può rivoltare perché ho stretto quanto mi bastava e quindi non ho ritenuto necessario fare il farlo più alto per poi rivoltarlo il mio è venuto comunque a v quindi non è tondo ma è a v perché io non ho tolto l'angolo per togliere l'angolo voi dovreste fare una diminuzione qua quindi saltare l'angolo e tirar via il pezzettino la punta io invece mi sono proprio agganciata nell'angolo quindi a me la punta rimane ma a me piaceva così devo dire la verità e quindi vedete ve lo faccio vedere bene bene sotto una rifinitura a maglia bassa perché lo volevo semplice vedete è molto molto carino rifinito così vediamo se riesco a farvelo vedere tutto eccolo qui è veramente carino tenete conto che questo arriva a sotto il gomito non è il polso quindi non fate un polsino molto stretto ma tenetelo largo perché comunque è sul braccio non è il polso bene con i bambini sotto che fanno rumore io vi saluto e invece di farvi effettivamente il tutorial dell'inizio vi lascio il link del mio della mia maglia poncio grenni perché in quella mi sono ricordata che vi faccio vedere proprio come si inizia quindi la partenza del poncio grenni spero che questo tutorial vi sia piaciuto vi mando un grosso bacio vi saluto vi invito sempre venire a trovarmi nel mio gruppo facebook facebook creando con luci franci ciao ciao da lucia un bacione grande ciao ciao